Ciao a Beatles.it, Charlotte Wells, Rainy Allen Miller, Molly Manning Walker, tre registe inglesi, molto giovani, 36 anni Charlotte Wells, 36 anni la Rainy Allen Miller, 30 anni la Molly Manning Walker, che brave, After Sun, Charlotte Wells, Paul Mescal viene candidato all'Oscar e fotte Tom Cruise, ritrovarsi a Rye Lane, Rainy Allen Miller, Stupendo, South London e How to Have Sex di Molly Manning Walker, 30 anni, la più giovane delle tre, siamo in vacanza a Creta. Allora, l'unica cosa che non mi piace di After Sun sono troppe inquadrature di specchi, troppo ripetitiva la linea drammaturgica e recitativa di Paul Mescal, ma ha uno dei finali più belli, più intelligenti, più emozionanti, più cinematografici, e l'ho visto al computer, degli ultimi anni per me, After Sun, un film che ha avuto un successo pazzesco e che, peraltro, sono tutti e tre film che anche noi italiani viviamo e vediamo attraverso lo streaming, e quindi After Sun si è molto legato a Mubi, e How to Have Sex lì, e ritrovarsi a Rye Lane sempre streaming. Molto interessanti. Tre registe di cui sentiremo parlare moltissimo, di cui abbiamo già sentito parlare, sono tre film idolatrati, oggi ci concentriamo di più su How to Have Sex. Ritrovarsi a Rye Lane è anche lì, l'uomo ha le converse rosa e la donna ci accompagna, e ci, a noi maschietti, in caduta libera, ci protegge, ci rincoglionisce di chiacchiere, ci seduce, ci rallegra, ci porta per mano verso il futuro. In After Sun è il ricordo di una bimba a metà anni 90 di un padre in depressione, è l'inizio della fine del maschio bianco, eterosessuale che Paul Mescal ha in sé, come dire, il senso della sconfitta. E qui siamo a Malia, andiamo a Malia, andiamo a Malia! Siamo dentro un film estivo, come After Sun, ma mi piacciono questi film estivi dove il mare è nero, mi piacciono questi film estivi dove il cielo è brutto, mi piacciono questi film estivi dove gli inglesi vanno sempre in dei luoghi dove il sole non li può sconvolgere, il sole non li può sciogliere, come in tanti film di grand tour italiani, e questo è interessante. E infatti anche Lost Daughter mi piace moltissimo perché ha questa accademica, questo intellettuale inglese che è Olivia Colman, che va in un posto di vacanza dove è tutto oscuro, dove è tutto oscuro e dove è tutto oscuro. Qui arriviamo a Malia, ci sono tre pischelle che hanno appena fatto degli esami, La vita sta cambiando, tre amiche dell'Inghilterra del Sud, sappiamo solo questo, voi che venite dal Sud, è un film di accenti, è stupendo vederlo in originale, ovviamente sentirlo perché c'è tutto questo inglese magnifico, così contrastato e contrastante dove cerchi di intuire anche i regionalismi, le tre pischelle si chiamano Tara, Sky ed Em, stanno andando a Malia a divertirsi, a passare una vacanza insieme, e non ci sono i genitori, i genitori ci chiamano...